categorie soprattutto per capire la realtà in cui ci muoviamo. Il libro, io dico solo due parole, sono in imbarazzo perché è un libro direi unico, è difficile trovare un libro di politica così ben scritto, così chiaro e così profondo. Non è un caso che sia uno degli autori più tradotti anche all'estero perché il politichese all'estero, soprattutto nei paesi anche lo sassoni, non ha grande audience. Quindi se non l'avete letto vi consiglio di leggerlo e di meditarlo perché in poche pagine avete una sollecitazione e indicazioni per capire non solo la sinistra ma la società e le trasformazioni in cui siamo immersi. E direi che dovrebbero leggerlo tutti, di sinistra ma soprattutto anche di destra perché adesso no, mi fermo qui. Lascio la parola, ringrazio del Barba di esercizio a noi. Grazie, grazie a lei professore. Magari se si ferma possiamo anche così interloquire tre, mi piacerebbe. Devo dire che dopo pranzo ho pensato molto a che completo mettermi perché volevo che si intonasse con il mood della giornata e poi ho deciso di usare una grisaglia per evocare quello che c'era allora e non c'è più. Io sto scherzando perché in realtà è fondamentale questa cosa, quello che c'era e non c'è più. Io nel 1989 avevo dieci anni e lo dico perché questo libro è credo indirizzato soprattutto ai giovani o comunque diversamente giovani alla classe dirigente del futuro. E io ricordo distintamente nel 1989 il mio primo ricordo politico è stato mio nonno che guardava la testa del pc con occhio vacuo e non era una persona semplice, era un lavoratore e in quel momento aveva capito che un pezzo di storia era finita. Era un lavoratore, questo libro parla di capitale e di lavoro, del rapporto tra capitale, lavoro e tecnica e fra questa dialettica a tre si dipana la storia dell'Occidente e forse anche il suo possibile futuro visto da sinistra e così professora? Sì, dunque. Allora, devo dire innanzitutto che io non amo molto parlare delle cose che ho scritto. Mi piace discutere, mi piace rispondere alle obiezioni, avviare una discussione. Poi gliele faccio. Eh, me lo immagino, ma raccontare diciamo le cose che io ho scritto mi fa sempre un senso di... Perché sapete, i libri sono una cosa diversa da chi li ha scritti. Non bisogna mai identificare l'autore con il libro. Il libro è una cosa, quando è stato scritto se ne va poi per la sua strada che può essere buona, meno buona, felice, infelice. E l'autore è da un'altra parte, un po' come nel rapporto tra padri e figli, tra madri e figli. Detto questo, nel libro ci sono due temi, anzi forse il libro si proprio, io credo, si può dividere in due parti. Da una parte è che cosa è successo, il tema è che cosa è successo nel mondo in questi ultimi, diciamo, vent'anni o trent'anni. Perché quello che è successo nel mondo in questi trent'anni è qualcosa di sconvolgente e che non è uguale nella storia di tutta l'umanità, di tutto l'umano. Non è uguale. Noi da questo punto di vista siamo, come dire, fortunati o almeno privilegiati perché stiamo vivendo un momento che è unico nella storia dell'umano. E il libro, nella prima parte, parla di questo. Poi nella seconda, ultima, parla più specificamente di qualche cosa di più definito e di più piccolo ma collegato a questo grande tema. E cioè, noi e l'Europa. Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'Europa? Che cosa noi dobbiamo fare per l'Europa? Che è una cosa ancora più importante di quello che noi dobbiamo aspettarci dall'Europa. Che cosa noi dobbiamo e possiamo fare per l'Europa? Questi due temi, in qualche modo, nel libro si uniscono intorno a questa parola, sinistra. Un programma, una prospettiva, un punto di vista della sinistra. Bene. Cominciamo rapidamente, poi, ti cedo la parola, dal primo punto. La rivoluzione che stiamo attraversando. La rivoluzione che stiamo attraversando è legata a due elementi sostanziali. Un salto tecnologico, senza i quali. Badate, sono duecento anni che l'Occidente sta correndo nell'acquisizione di tecnologie sempre più potenti. Dopo una stagnazione che era durata migliaia di anni. C'è una frase di un grande storico inglese che io ripeto sempre, ve la dirò anche a voi. Questo grande storico inglese diceva Le condizioni di vita materiali, quindi le condizioni dal punto di vista della tecnologia, della vita materiale, di un gentiluomo inglese del 1700, non era poi così diversa da quella dei legionari di Cesare. Duemila anni e non era successo niente dal punto di vista della vita materiale. Poi è iniziata una corsa. Sempre più veloce, sempre più veloce. Fino al salto di questi ultimi trenta o quarant'anni. Io vi prego di fare questo piccolo esercizio mentale di pensare che cosa accadrà se questo ritmo si mantiene e tutto lascia credere che si mantiene nei prossimi 200 anni. È qualcosa che fa venire le vertigini. Nessuno di noi può pensare a questa semplice proposizione se la velocità della crescita tecnologica continua come si è sviluppata in questi decenni che cosa sarà dell'umano, cosa saremmo diventati noi tra 200 anni. È una cosa che fa venire i brividi, che lascia sconvolti. Bene. Questo salto tecnologico dal punto di vista dei rapporti economici, dei rapporti sociali ed economici ha significato due cose fondamentali. Primo, una straordinaria vittoria dell'organizzazione capitalistica che è diventata l'organizzazione capitalistica dell'intero pianeta. Badate, fino a venti o trent'anni fa il pianeta era spaccato in due. C'era mezzo pianeta, grosso modo, capitalistico e c'era un altro mezzo pianeta e forse come numero di abitanti ancora maggiore che pensava che il capitalismo fosse la dannazione e cercava di organizzare la società secondo altri criteri, quelli di un'economia socialista, di un'economia, chiamiamola socialista per intenderci, la Cina, l'Unione Sovietica, tutto il blocco che in Asia faceva capo alla Cina e all'Unione Sovietica e in Europa faceva capo all'Unione Sovietica. Metà del mondo, metà del mondo, spazzato via. Oggi la regola capitalistica è la regola, è l'ordine economico del mondo, la regola capitalistica detta l'ordine economico del mondo. Senza eccezioni, ci sono le guerre, c'è la Russia che invade l'Ucraina, ma la Russia ha un'organizzazione economica di tipo capitalistico, per non parlare della Cina, e tutto il blocco di paesi che cerca di contrastare, diciamo, l'egemonia dell'Occidente ha regole economiche, ha un sistema economico completamente capitalistico. L'organizzazione capitalistica è la regola del mondo e la contraddizione che ha costituito per oltre cent'anni, ha fatto da motori alla storia del mondo, la contraddizione tra capitale e lavoro, classe operaia e imprenditori e detentori di capitale, è svanita, perché la rivoluzione tecnologica ha fatto scomparire la classe operaia. Ecco, su questo punto, ha fatto scomparire il lavoro. quando io ho, sì, io la interrompo, faccio il mio lavoro. Certo, lo vuoi bene. Allora, io mi sono, l'ho riletto parecchie volte questo passaggio perché poi ritorna nel libro, eccetera. Siamo veramente così sicuri che la classe operaia o comunque chi lavora nel manifatturiero, tutto quello che oggi può essere chiamato manifatturiero, dalla logistica integrata fino davvero alla siderurgia, si è davvero scomparso. Le dico due cose. Noi viviamo in una provincia che produce 35 miliardi all'anno di PIL, 450 mila lavoratori di cui grossomato il 45% ancora in fabbrica. Ci sono aziende da migliaia di dipendenti, certo, non sono quelle degli anni 70, però poco distante da qui abbiamo un pezzo di ex Fiat, l'Iveco, che fa 1200 abitanti, Mannheim, ad esempio, tanto per dire non è solo un problema italiano a forse la più grande fabbrica d'Europa, la BASF, cioè c'è ancora, la mia domanda è, non è che forse ci siamo, cioè ci siamo, la sinistra ha perso di vista il suo interlocutore, non è scomparso, forse c'è ancora? Dunque, io, state attenti, ho detto è finita la classe operaia, non ho detto sono finiti i lavoratori, sono due cose profondamente diverse. il numero dei lavoratori che, come dire, producono beni materiali si è fortemente contratto in tutto l'Occidente, quindi da un certo punto di vista è vero, il numero dei lavoratori, cioè di coloro i quali producono con le loro mani beni materiali, ricchezza materiale, oggetti, beni materiali, si è in tutto l'Occidente fortemente ridotto, c'è stato come dire l'esito della deindustrializzazione, della cosiddetta deindustrializzazione è questo, ma quando io dico è finita la classe operaia non solo voglio dire si è contratto il numero, la quantità dei lavoratori, voglio dire che quelli che sono rimasti per loro è finito il legame di classe che per cento anni, per più di cento anni è stato uno dei motori della storia dell'Occidente e questo lo vediamo ogni giorno e non soltanto in Italia e non soltanto in Italia la grande domanda è perché è finita la coscienza di classe è finito il sentirsi il viversi come classe da parte di questa quota di laboratori che continua ad esistere naturalmente è finita perché il loro lavoro è cambiato il loro lavoro è cambiato anche se è rimasto un lavoro produttivo di beni materiali il loro lavoro è cambiato perché i grandi sistemi di fabbrica sono finiti non esistono più almeno nella parte come dire nella parte trainante dell'Occidente c'è stato un processo di parcellizzazione di frammentazione di frammentazione delle mansioni delle competenze come dire i legami che tenivano uniti gli operai nei sistemi di fabbrica si sono completamente dissolti questo ha prodotto conseguenze dal punto di vista delle forme di coscienza delle forme culturali enormi enormi la più importante delle quali è stata la fine della classe operaia la fine della soggettività operaia come soggettività di classe se vogliamo dire così ecco da questo punto di vista torniamo alla mia domanda iniziale la sinistra intesa ovviamente come partito democratico ma anche tutto quello che gli gira intorno forse anche una parte di Movimento 5 Stelle non ne sono tanto sicuro ma comunque ha perso il proprio interlocutore o meglio ha perso la grammatica necessaria per far capire a un interlocutore che ancora ha gli stessi problemi di una volta forse dopo il covid ancora di più che c'è una via politica alla risoluzione di alcune questioni certamente la via è sempre e solo politica poi forse avremo un attimo di tempo per tornare su questo punto cioè su che cosa è stata in questi decenni la cosiddetta antipolitica ma per rispondere alla sua domanda questa scomparsa diciamo della classe operaia della soggettività operaia diciamo così non ha per nulla risolto i problemi sociali che la presenza della classe operaia cercava di risolvere anzi nell'occidente per esempio il quadro delle diseguaglianze è aumentato non è diminuito non dobbiamo stare attenti quando diciamo questo perché è vero che nell'occidente il quadro delle diseguaglianze è fortemente aumentato in modo addirittura drammatico è vero anche che su scala planetaria le diseguaglianze sono molto diminuite noi quando prima parlavamo dell'occidente come un luogo in cui attraverso lo stato sociale attraverso le politiche socialdemocratiche si erano introdotti elementi di eguaglianza che stiamo perdendo in questi decenni che stiamo perdendo noi pensavamo soltanto a noi all'occidente ma a livello planetario del mondo l'Asia l'Africa erano erano abissi non di diseguaglianza di più abissi come dire di annullamento dell'umano di annullamento storico dell'umano oggi la retorica è il discorso principale che si fa quando si parla di digitale di tecnologia è quello che l'accesso alle informazioni e ai beni nel mondo abbia migliorato la qualità della vita in generale lei io non ne sono tanto sicuro devo essere sincero dunque io credo che ripeto su scala planetaria non c'è dubbio che il mondo oggi è molto più uguale di come non fosse cento anni fa non c'è il minimo dubbio tutte le statistiche tutti gli indicatori non c'è il minimo dubbio all'interno dell'occidente noi abbiamo come dire pagato l'occidente ha pagato questa maggiore eguaglianza planetaria perdendo elementi di eguaglianza al proprio interno ciò non toglie che la rivoluzione tecnologica l'aumento di potenza della tecnica provo che produca dei vantaggi per tutti noi anche dei rischi naturalmente anche dei rischi ma produca vantaggi e rischi per tutti noi ma certamente questi vantaggi come dire si stanno distribuendo in modo profondamente diseguale in occidente profondamente diseguale in occidente ma c'è una ragione c'è una ragione di tutto questo c'è una ragione e cioè che l'economia planetaria quella che noi chiamiamo volgarmente globalizzazione che è un processo irreversibile irreversibile è il nostro futuro non c'è verso da lì non si scappa ma quello che è vero è che questo processo di mondializzazione dell'economia si sta trasformando sempre di più in una privatizzazione del pianeta del pianeta intero delle risorse del pianeta della tecnologia di cui il pianeta è capace cioè della potenza dell'umano nelle mani di pochi gruppi privati privati che accumulano profitti inimmaginabili al di fuori di ogni regola e di ogni controllo questo è il punto questo è il punto in questo trend sta parlando sicuramente dei colossi americani del digitale eccetera l'Europa ha un ruolo si è cercata di ritagliare un ruolo lo abbiamo visto che è un ruolo normativo che tanti pensano essere anche magari un po' lento o addirittura non sincronico rispetto al progresso io credo prego 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 volevo volevo solo sottolineare questo eppure l'Europa da questo punto di vista ha al suo interno un un afflato etico che Stati Uniti e Cina non hanno dunque l'Europa ha io credo un grande ruolo e un grande futuro se fa un salto di qualità e questo è il punto diciamo di fondo il secondo punto di fondo a cui stiamo arrivando l'Europa così com'è oggi non va lontano non va lontano e il fatto che noi dobbiamo difendere anche quel poco che c'è contro chi vorrebbe distruggere anche quel poco che c'è non ci deve impedire di vedere che così l'Europa è una cosa ben misera ben misera e allora io mi chiedo ecco perché una delle bandiere della sinistra non debba essere non difendiamo l'Europa com'è dagli attacchi di chi vorrebbe distruggerla ma facciamo a partire dalla sinistra facciamo fare all'Europa un salto di qualità facciamo fare all'Europa un balzo in avanti un balzo in avanti più democrazia e più politica e più unità noi abbiamo bisogno non di meno Europa non di meno Europa perché dobbiamo rivalutare i confini e le nazioni come si dice questo è profondamente sbagliato ma non perché di destra perché contro la storia perché nega un processo nel quale siamo comunque immersi il problema non è avere meno globalizzazione ma governare la globalizzazione imprimerle un contenuto come dire sociale e di democrazia questa è la sfida non avere meno Europa meno globale averne di più ma nella direzione giusta e per questo fare questo salto di qualità far fare all'Europa questo salto di qualità è fondamentale io credo che questo dovrebbe diventare la bandiera ma non della sinistra italiana di tutte le sinistre europee in occasione delle elezioni europee dell'anno prossimo ma non è allora forse che abbiamo e poi vorrei sentire anche il professor Chiarini su questo punto non è che forse abbiamo sbagliato modello associativo nel senso che lei ha parlato di stati e settimana scorsa il premier Meloni ha fatto un discorso all'ONU incentrato completamente sugli stati che poteva anche essere digeribile da un certo punto di vista perché aveva un suo filo logico cioè quello che voglio dire non è che magari gli stati io ricordo la costituzione dello stato unitario francese come una delle strutture principali della modernità non è che forse potevamo pensare come lo faceva anche Spinelli ad un modello magari più federativo dove le l'entità rimanesse ma la cessione di alcuni poteri fosse più chiara non è che abbiamo sbagliato metodo di unificazione vogliamo sentire certo sentiamo Chiarini professore il microfono lo dicevo che l'ho detto già nell'introduzione ho trovato ineccepibile e totalmente condivisibile tutta l'analisi che hai ripetuto anche adesso nel senso che non è un'analisi di sinistra o di destra è un'analisi realistica inconfutabile l'ambizione del libro è anche quello di tracciare una prospettiva tu cominciavi adesso con il tema centrale dell'Europa e non c'è dubbio però dentro questo panorama c'è un soggetto politico che dà il titolo al libro sinistra l'analisi tu parti da una diagnosi che è impietosa la sinistra un vuoto di idee non ha né prospettive né storia né idee di nuovo è una gestione del potere senza idee ora su questo punto ripartire per creare una un futuro nella tua parte finale già anche adesso tracciavi dei panorami però io sento tutto l'imbarazzo di questa prospettiva e direi quasi la paralisi perché non tocca certo a te fare il programma di partito della sinistra né europea né tantomeno quella italiana perché non è compito dello studioso però si ha l'impressione di muoversi proprio nella nebbia mancano anche gli intellettuali sì allora mi racconto una piccolissima storiella io non ho più tessere di partito da trent'anni in occasione di questo libro che ho scritto alcuni dirigenti del PD mi hanno invitato ad una loro riunione diciamo di corrente come dire a fare un discorsetto e io ci sono andato da esterno naturalmente e ho detto più o meno in modo un po' più articolato perché avevo un po' più di tempo le cose che sto dicendo a voi poi si è aperto il dibattito e sono intervenuti erano tutti dirigenti del PD non persone come di cittadini comuni tutti dirigenti e uno mi ha detto di cui non faccio il nome manca un dirigente abbastanza noto ha detto questo discorso e caro Chiavone sì tu hai ragione certo sì c'è stata una vittoria capitalistica in questi decenni ma non diciamolo troppo teniamolo questa sconfitta nostra teniamola mettiamoci un po' la sordina sopra a me sono cadute le braccia ecco questo è l'apologo di che cos'è la sinistra oggi se non prendiamo atto di che cosa è successo se non facciamo i conti con quello che è accaduto e cerchiamo ancora di fingere che non sia così di fingere che la classe operaia tutto sommato ci sia ancora che si possa fare ancora quel tipo di discorso anticapitalistico il risultato qual è? è l'appiattimento totale su quello che esiste è la resa di fronte all'esistente e invece io credo che si possa fare oggi una critica all'organizzazione capitalistica del pianeta ma non chiamando in causa il socialismo e quelle robe lì ma su altre basi in un altro modo ma una sinistra che non sia critica rispetto all'esistente al mondo così com'è ma che sinistra è? ma perché la sinistra sia critica deve partire da quello che è accaduto da quello che c'è stato non nasconderselo non nasconderselo quindi veramente per me questa mentalità sì il capitale ha vinto ma non lo diciamo troppo è abberrante è proprio è l'opposto di quello che una sinistra consapevole dovrebbe essere ecco pagina 109 bisogna spostare l'idea di eguaglianza dal piano dell'economia dove l'aveva messo lo sviluppo capitalistico di una volta a quello dell'etica e delle coscienze detto così bello ma anche un po' utopico no? le coscienze l'etica senza regole non credo non credo non credo i grandi salti i grandi salti etici sono avvenuti nella storia del pianeta sempre in rapporto a mutamenti tecnologici per Aristotele essere schiavi era una condizione naturale si è schiavi per natura e la donna è un essere inferiore rispetto all'uomo per natura eh? catafusing diceva Aristotele secondo natura questo è secondo natura secondo natura quello che oggi ci fa abborrire la schiavitù e ci fa considerare abberrante il discorso sull'inferiorità naturale della donna non è un salto di qualità etico non è un salto di qualità etico avvenuto perché sono mutate le condizioni tecnologiche e noi oggi possiamo permetterci di dire che siamo tutti uguali uomini e donne perché come dire la nostra potenza tecnologica consente una divisione sociale del lavoro equa e quindi le cose si intrecciano io credo che oggi la potenza tecnologica che abbiamo raggiunto ci consente un salto etico un salto etico che ci fa pensare all'eguaglianza fra gli uomini non un'eguaglianza totale fra gli uomini ma un'eguaglianza fra gli uomini rispetto ad alcuni beni rispetto ad alcune risorse come un dato innanzitutto etico quindi questo salto di cui accenno nel libro che ora tu dicevi dall'economia all'etica è un salto che l'umano ha già fatto altre volte in rapporto ad altre discriminazioni la schiavitù la quale schiavitù non è una cosa che appartiene a migliaia di anni fa la schiavitù negli Stati Uniti è una cosa di meno di due secoli fa e nel sud dell'America è roba di 140 150 anni fa ieri in termini di storia dell'uomo non parliamo della discriminazione rispetto alle donne che è roba dell'altro giorno e non abbiamo ancora vinto del tutto nemmeno quella battaglia questo salto di qualità etico è in carico secondo la tesi del libro a una parte politica precisa che è la sinistra però non alla sinistra nazionale lei dice a una sinistra che deve essere sovranazionale che deve essere anzitutto europea io vengo da una generazione che ha girato l'Europa perché i costi dei viaggi erano scesi perché l'erasmus era diventato qualcosa di affordable per tutte le persone anche per i figli dei dipendenti normali eppure e abbiamo delle visioni comuni io ho degli amici tedeschi francesi spagnoli eppure politicamente siamo ancora molto molto distanti è possibile che i segretari dei partiti mi viene in mente Letta ha fatto un'esperienza continuo a fare un'esperienza in Francia avrebbe potuto in qualche modo federare nessuno di noi l'ha fatto nessuno di noi lo sta facendo questo è un limite grave hai perfettamente ragione qui ci vuole un salto di qualità della politica di questo dobbiamo essere capaci di questo dobbiamo essere capaci che questo sia il nostro compito avendo questo in mente che l'antipolitica che si è così diffusa in occidente non solo in Italia in tutto l'occidente a cominciare dagli Stati Uniti è una strada che non porta da nessuna parte porta solo alla schiavitù la politica e la democrazia perché le cose si tengono la democrazia è figlia della politica e la politica è figlia della democrazia le due cose stanno insieme è l'unica forma che noi abbiamo inventato in 2500 anni per governare le comunità nel modo meno sopraffattore possibile non abbiamo altri strumenti almeno non li abbiamo ancora pensati o non li abbiamo ancora inventati e quindi ci dobbiamo come dire lì ci dobbiamo legare l'antipolitica significa solo consegnare il potere nelle mani di chi sfrutta l'antipolitica per dominare la società per controllare la società quindi ogni scelta che come dire che fa fatica come dire che disprezza la politica ogni scelta che va verso il disprezzo verso il rifiuto della politica è una scelta suicida che ci rende schiavi che ci rende schiavi sempre più schiavi e a questo noi ci dobbiamo ribellare la politica è una cosa modesta la politica è pessima la politica è corrotta la politica come dire not in my name non ci riconosciamo in chi ci governa miglioriamolo troviamo i modi per cambiarla ma questa è una stretta attraverso la quale dobbiamo passare perché non c'è alternativa non c'è niente che possa sostituire la politica se non la schiavitù generalizzata di tutte le donne di tutti gli uomini di questo pianeta non c'è alternativa questo ci dobbiamo mettere in testa per quanto la politica possa essersi ridotta a una cosa miserabile meschina di imbrogli di corruzione tutto quello che volete mi viene in mente il grande salto di qualità fatto nella prima campagna elettorale di Obama quando non era ancora nessuno e Obama riuscì a diventare il candidato del partito democratico poi a vincere grazie a una mobilitazione sul territorio di ragazzi che lavoravano a gratis telefonando spiegando alle persone eccetera è un è un moto era stato un moto d'orgoglio che poi lasciamo perdere i risultati finali è da qua che si parte anche adesso non c'è dubbio non c'è dubbio non c'è dubbio è da qui che si parte da questo grande salto in avanti sapendo anche una cosa che uno degli elementi che rendono la politica una cosa misera è che noi abbiamo chiuso la politica dentro i confini degli stati di fronte a poteri che hanno saltato i confini degli stati quindi c'è una disparità una asimmetria di potenza drammatica la politica non ha strumenti per imporsi a chi detiene davvero il potere quella che io chiamavo prima la privatizzazione del pianeta nemmeno la politica americana riesce a opporsi alla privatizzazione del pianeta figuriamoci un piccolo paese sebbene che con grandissime tradizioni intellettuali umane come l'Italia quindi il primo punto è rendere la politica capace di opporsi e di mettere sotto controllo i grandi poteri che stanno privatizzando il pianeta questa è la grande sfida ma come si fa se non attraverso la politica e se non spezzando le gabbie nazionali della politica quindi altro che chiudiamoci gli stati i confini ma dove mai spezziamo riusciamo a dare alla politica la forza tale per poter fronteggiare questa tendenza capitalistica a privatizzare il mondo che è la nostra rovina certo è che il meccanismo di funzionamento dell'Europa oggi è talmente complesso è talmente farraginoso agli occhi delle persone che anche chi lo studia fa fatica a capire c'è un eurogruppo c'è una commissione c'è il Parlamento chi decide che cosa lo fa lui forse arrivare a una semplificazione a una sintesi con lo dice anche lei nel libro magari l'elezione diretta del presidente della commissione ci vuole più rappresentanza si è parlato in questi giorni moltissimo e giustamente di un articolo di Draghi qualcuno di voi ne avrà stendito che è uscito su un giornale inglese su Financial Times poi Repubblica l'ha pubblicato interamente un bel articolo in cui Draghi sostiene il punto di fondo che per dar forza all'euro bisogna arrivare a una fiscalità unica europea e ha ragione naturalmente anche se non è dietro all'angolo questo obiettivo però ha ragione ma poi Draghi fa un'osservazione che chiude in un inciso come è abituato a far lui a dire le cose più importanti sempre nel modo più dimesso possibile e lui dice certo una fiscalità unica presuppone più rappresentanza cioè più democrazia meno burocrazia meno burocrati di Bruxelles e più democrazia lui facendo questo gioco fiscalità rappresentanza aveva in mente questa famosa frase su cui è nata la rivoluzione americana no taxation without representation non ci tassate se non ci fate anche scegliere i nostri governanti e le tasse è un meccanismo di inclusione potentissimo è quello quindi per dire questa storiella per dire che cosa che ogni passo avanti anche dell'unione economica europea dell'unione monetaria europea presuppone oggi richiede un salto in avanti nella democrazia europea quindi nell'esercizio della rappresentanza meno burocrazia più democrazia questo dovrebbe diventare lo slogan di tutti i partiti di sinistra nelle prossime elezioni meno burocrazia di Bruxelles più rappresentanza più democrazia europea professore Chiarini cosa dice magari apriamo cinque minuti se qualcuno ha voglia di fare qualche domanda non così tanti non tutti insieme non ho capito di quali sinistri di quali sinistri vanno mi aggiungo io che volevo parlavo prima di nebbia ma oltre alla nebbia c'è la paralisi perché se noi guardiamo questi trent'anni la sinistra in generale in Europa in occidente o slitta su posizioni vetro marxiste o va verso una forma di si dice liberal socialismo ma è più liberal che socialismo cioè Blair o Corbyn e adesso Starmer in Italia diciamo Renzi e dall'altra parte la Sline ma non vedo una traccia un barlume un gruppo che in qualche misura ha un lungo lavoro da fare ma che abbia cominciato a farlo o che abbia qualche idea in proposito o mi sbaglio? non ti sbagli e rispondo anche alla signora la situazione per la verità è diversa da paese a paese europeo ecco è vero che la situazione della sinistra italiana è a mio avviso particolarmente difficile però proprio per questo forse tanto più c'è bisogno del nostro impegno e dell'impegno soprattutto delle giovani generazioni tanto più la sinistra italiana ha avuto dei grandissimi meriti dei grandissimi meriti storici ha costruito in larga parte la democrazia del paese e ha retto ha contribuito a fare di questo dell'Italia un paese un paese moderno e un paese nel quale grandi conquiste democratiche sono diventate e sociali sono diventate come dire senso comune opinioni comune sono penetrate nel sangue e nella testa di milioni e milioni di donne e di uomini di questo paese non bisogna azzerare tutto e dire ecco detto questo è vero che dal 90 in poi come dire dalla fine dell'Unione Sovietica e dal salto di qualità tecnologico le due cose sono legate insieme sono legate insieme rivoluzione tecnologica e crollo diciamo dell'impero sovietico la sinistra italiana ha come perso la testa questo è vero bisogna bisogna fargliela ritrovare bisogna ridargliela bisogna ridargliela altrimenti saranno guai non per la sinistra ma per l'intero paese andiamo tutti a sbattere se non c'è una sinistra forte e che ritorni a pensare e a proporre tutta l'Italia va a sbattere compresa la destra italiana che naturalmente è bene che ci sia e che faccia la sua parte ma va tutto il paese a sbattere senza una sinistra forte che torni a pensare detto questo e finisco la situazione è più articolata in Germania le cose sono forse meno drammatiche meno drammatiche di come non sono in Italia anche se lì la Francia è anche una situazione è anche una situazione diversa ma qui se mi permettete se una parola voglio dire che va al di là la difficoltà della sinistra riflette una difficoltà più generale che è una difficoltà come posso dire delle scienze umane in occidente in questo momento cioè è il pensiero sull'uomo la filosofia la storia la sociologia la scienza politica tutti i saperi dell'uomo che in questi decenni hanno fatto un passo indietro rispetto a cosa erano 60, 70, 80 anni fa tutte le scienze umane dell'occidente compresa la scienza politica compresa il sapere della politica noi chiamiamo la scienza politica che è troppo accademico il sapere della politica anche questo ha fatto un passo indietro la destra ha meno bisogno di sapere della politica ha meno bisogno di conoscenze di scienza per governare perché governa secondo altri criteri e in un altro modo ha un rapporto diverso con il passato ha meno bisogno di pensiero non perché siano più stupidi ma perché hanno meno bisogno di pensiero nuovo per governare la sinistra invece ha bisogno di pensiero nuovo e questo pensiero nuovo oggi si fa fatica a trovare in occidente questa è una grande e drammatica verità quindi prima o poi di dare la colpa ai politici direi come quella banda di venduti ma che pensiero c'è dietro quella banda di venduti chi gli dà pensiero nuovo questo pensiero nuovo noi ne produciamo noi dico la società dell'occidente ne sta producendo molto di meno molto di meno questa è una grande domanda voi mi potete dire ma perché secondo te questo sta accadendo io non ho una risposta però di questo si deve cominciare a parlare di questo si deve cominciare a discutere perché poi la politica si miserisce quando non ha bacini di pensiero che l'alimentino dietro bacini di eticità bacini di pensiero di pensiero politico di pensiero filosofico di pensiero storico di etica questo di questo c'è bisogno ma questo si sta immiserendo complessivamente nelle nostre società ed è una cosa drammatica mentre invece il pensiero della tecnica il pensiero tecnologico aumenta di smisura e si mangia tutto e si mangia tutto c'è stato un momento però nella storia recente nel quale si è provato a instillare nella sinistra un pensiero generale di potenza ontologica mi riferisco al periodo che poi si è concluso malamente con il con Genova 2001 il pensiero ambientalista e comunitario di quel tipo di movimento che in sé forse portava questa generale forza di cui sta parlando lei o mi sbaglio magari no non si sbaglia affatto non si sbaglia affatto qui c'è un discorso complicato da fare che non abbiamo il tempo di fare io credo che i temi che vengono detti cosiddetti ambientali siano cruciali per conservare l'esistenza umana su questo pianeta naturalmente perché la prima cosa è vivere naturalmente è primo vivere e per vivere bisogna mantenere un ambiente che consenta alla vita di svilupparsi alla vita biologica di svilupparsi quindi su questo non ci sono dubbi dietro molti discorsi ambientali c'è però una posizione che io considero completamente sbagliata e la sinistra spesso l'ha fatta propria aumentando la confusione la convinzione cioè che per salvare il pianeta bisogna come dire avere meno tecnologia bisogna produrre meno e produrre meno tecnologia cioè che il pianeta si salva se l'umano fa un passo indietro è vero il contrario è vero il contrario il pianeta si salva se l'umano acquista sempre più potenza e la usa bene e la usa bene il punto non è meno potenza quando c'era meno potenza dell'umano le donne morivano di parto come mosche gli uomini morivano di fatica di stenti e di guerre come mosche si moriva a 40 anni a 30 anni e le città erano delle sentine terrificanti questo era quando c'era meno tecnica e l'umano aveva fatto un passo indietro mi spiego quindi il problema è non salvare il pianeta salvare l'ambiente ritraendo indietro facendo un passo facendo falle agli uomini un passo indietro e rispettando come si dice la natura no e rispettando la natura con più tecnica usata bene usata bene usata in modo giusto il problema non è mai la potenza dell'umano è l'uso che si fa di questa potenza ma l'uso che si fa di questa potenza è politica è politica e quindi il discorso ritorna lì capito non si salva il pianeta disarmandoci capito facendo dei passi indietro e tornando come si era prima come si era prima si moriva come si era prima si moriva come mosche questo era prima ecco il problema è un altro purtroppo andremo avanti un'altra ora penso soprattutto il pubblico che è qui che si beve quello che dici abbiamo acceso almeno una fiamma e delle idee purtroppo dobbiamo chiudere e vi ringrazio di essere qui avevo visto giusto invitare uno studioso di questo calibro perché credo che idee così lucide non si trovino sul mercato facilmente grazie a voi grazie